Veterani delle battaglie del Signore, fateci comprendere quale forza occorre portare in ogni età al servizio di Dio. Meno fortunati di noi, voi conosceste tardi il Vangelo e le ricchezze inestimabili che esso porta al cristiano. Ma la vostra gioventù fu rinnovata come quella dell'Aquila nel Santo Battesimo e lo Spirito Santo produsse in voi frutti copiosi. Quando infine suonò l'ora del trionfo finale, il vostro coraggio uguagliò quello dei valorosi combattenti. Ridestate in mezzo a noi la fede nella parola di Dio, le sue promesse ci faranno al pari di voi disprezzare la vita presente. Richiamate la pietà alle vere sorgenti che fortificano l'anima, alla conoscenza, all'uso quotidiano delle sacre formule che ricongiungono con tanta sicurezza la terra al cielo da cui esse sono discese. Così sia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.